bene buongiorno a tutti ascoltiamo il progetto di tesi di alberto sacchi dal titolo progettazione e stampa 3d di un modello in scala di monoposto formula sae prego buongiorno a tutti l'obiettivo di questa tesi è stato grazie ai disegni forniti dal team della formula sae rendere questi disegni fatti al cad della della vettura con dimensioni e forme reali renderli un modello stampabile con la tecnologia della stampante 3d per fare ciò è stato necessario attraversare alcune fasi la prima di queste è stata la semplificazione di questi disegni cad perché rappresentavano appunto forme reali a volte difficilmente stampabili con la tecnologia da noi disponibile e sono stati necessari alcuni adattamenti che vedremo in seguito poi è stata necessaria una suddivisione adeguata della vettura delle parti della vettura per rendere le dimensioni di ogni parte compatibili col volume di stampa della stampante poi c'è stata una fase di vera e propria stampa dei componenti e in seguito un assemblaggio per interagire con i disegni in questo progetto ci si è utilizzato solidwork che è un software di disegno e modellazione 2d e 3d che si è permesso pure appunto di interagire con con i disegni le le semplificazioni maggiori sono state necessarie sono state necessarie nel gruppo ruota e perché la propulsione di questa vettura avviene con l'utilizzo di quattro motori elettrici uno per ogni ruota e di conseguenza sono necessari degli organi degli organi complessi come dei riduttori questo mozzo con le staffe per collegare i braccietti di sterzo una camicia di raffreddamento quindi tutte forme complesse difficilmente rappresentabili in scala 1 a 10 che è quella del modello e che sarebbero andate un po oltre l'obiettivo di un modello generale della vettura quindi è stata semplificata questa parte è stato ridisegnato il cerchio ispirandoci allo z racing presente sulla vettura con gialla la gomma integrata per facilitare la stampa poi ci si è approcciati al telaio che per la fase di stampa sarebbe stato inutile il problema è che tutti i disegni erano vincolati sul telaio il telaio non era eliminabile ma creava cavità all'interno del del corpo della vettura e che di conseguenza davano potevano infastidire la stampa e creare problemi o comunque rallentarla quindi è stato necessario riempire tutta la vettura intersecando dei piani con alcuni solidi per riempire appunto tutto il corpo vettura e poi sono state fatte altre modifiche che hanno facilitato poi l'assemblaggio come l'inserimento di questa staffa per facilitare l'incollaggio dell'ala posteriore l'ispessimento di alcuni di alcune parti che in scala sarebbero state troppo fini e altre modifiche di questo tipo per adattare i disegni reali a una fase di stampa successivamente è stata fatta una divisione della vettura che è stata studiata in modo tale da dividerla in parti in punti che dopo l'assemblaggio non fossero particolarmente visibili per fare ciò è stata utilizzata la funzione dividi una funzione apposita che permetteva di selezionare selezionare la superficie lungo la quale dividere la vettura selezionare parte per parte ciò che interessava e tagliare i corpi e successivamente salvare questi corpi con estensione stl necessaria per importarla poi nel per importare poi la parte nel programma della stampante quindi appunto era possibile salvare solo i corpi selezionati successivamente veniva importata questa parte in formato stl nel programma il programma è maker bot print un programma fornito dal produttore della stampante semplice nel suo utilizzo ma molto completo qui a lato è possibile vedere alcune alcuni pannelli quindi vediamo il primo di tutti la simulazione della stampa dove è possibile analizzare strato per strato movimento dopo movimento della stampante tutte le fasi di stampa così da poter analizzare il tutto e renderlo al meglio poi le informazioni del pezzo importato le impostazioni rapide che vedremo successivamente e poi è possibile aggiustare la disposizione del pezzo all'interno del volume di stampa l'orientazione del pezzo e la scala questo è il pannello che permette di modificare le impostazioni della stampante è un pannello molto completo dove sono presenti impostazioni anche molto specifiche le quali non con le quali non è stato necessario interagire quelle più generali con le quali si è interagito più spesso sono quelle riportate qui a lato possiamo vedere per esempio la percentuale di riempimento la temperatura di estrusione l'angolo di supporto la trama del riempimento e così via questa è la stampante il corpo principale della stampante che è una maker bot method è uno dei prodotti di punta del produttore è una stampante capace di di dare un'accuratezza degna delle e una velocità di stampa degna delle stampanti 3d industriali è molto interessante questo display da 5 pollici touchscreen che consente di avere numerose informazioni durante i vari processi di stampa di caricamento del materiale di pulizia degli estrusori che rendono la stampante estremamente semplice da utilizzare anche per un utilizzatore non particolarmente esperto qui è possibile vedere gli slot del caricamento delle bobine di materiale questa stampante è dotata di un doppio estrusore e quindi ha due slot per inserire materiali diversi un materiale principale per la stampa e un materiale per il supporto da notare la capacità di questa stampante di utilizzare un materiale chiamato pva solubile in acqua che consente di creare supporti di di forme molto complesse inoltre grazie alla tecnologia smart spool che si serve di alcuni sensori rf id è possibile vedere sul display importanti informazioni riguardanti i materiali inseriti negli slot quindi tipologia di materiale il colore del materiale e anche la quantità di materiale rimanente così da non incappare in problemi durante la stampa qui è possibile vedere in dettaglio i due estrusori visibili aprendo il coperchio superiore della stampante e quindi facilmente accessibili e questo è un una spiegazione del 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 meccanismo degli estrusori che si servono di dei motori elettrici che trascinano il filo fino alla punta riscaldata che esclude che estrude poi il materiale per la stampa qui è possibile dovrebbe vedersi un video spero si veda nella presentazione un un momento nella quale la stampante stava appunto stampando la parte qui a destra visibile che è la posteriore della vettura è possibile apprezzare la velocità e la precisione dei movimenti di questa stampante la posteriore in realtà poi è stata modificata riprogettata per nascondere la il punto di giunzione e renderlo appunto più nascosto e un po più estetica successivamente questo è un esempio di un pezzo partendo da dall'anteprima di stampa al pezzo finito sono le ruote comprese dei mossi è possibile vedere la pure stauer quindi questa torre che viene creata dalla dalla macchina per tutto ciò che è materiale di scarto è possibile vedere questi ricci di materiale non intaccheranno così la stampa e daranno un oggetto finito di qualità superiore è possibile vedere appunto il dettaglio delle delle ruote questo è appunto il materiale è il pva e questo materiale solubile che permette di realizzare supporti come in questo caso che era il supporto del cerchio supporti di forme particolari facilmente eliminabili distaccabile questo supporto tramite inserimento del pezzo in acqua e così rimarrà solo il pezzo senza il materiale di supporto ci sono stati alcuni problemi durante la stampa uno di questi ha rallentato notevolmente la stampa del corpo vettura principale il problema era un continuo bloccaggio un continuo inceppamento del dell'estrusore principale che dava la macchina dava questo avviso che fermava la stampa era necessario spurgare l'estrusore principale a volta è stato necessario anche scaricare il materiale e successivamente eliminare la prima parte di filo e ricaricarlo la la motivazione è stata cercata sia nella temperatura di riposo dell'estrusore troppo elevata che poteva cristallizzare il materiale e creare così un inceppamento in realtà potrebbe essere anche che il materiale essendo precedentemente stato aperto si fosse un po deteriorato e avesse quindi modificato le sue le sue caratteristiche che lo hanno reso meno duttile questo problema era risolvibile tramite appunto uno spurgo dell'estrusore durante una di queste fasi è stato necessario aprire il volume di stampa ma in seguito a uno di questi interventi si è staccata la pure tower dal piatto di stampa di conseguenza il filamento che doveva essere depositato su questa torre è andato a intaccare la stampa della carrozzeria rendendola meno estetica successivamente però è stata levigata e quindi alla fine è stato risolto questo problema questa imperfezione estetica che però non danneggiava comunque in maniera strutturale il il corpo successivamente è iniziata la fase di assemblaggio ci si è serviti di di una colla abbastanza semplice l'attac che però permetteva un incollaggio molto veloce e molto resistente l'assemblaggio è stato accurato ma è stato veloce perché alcune scelte progettuali prese precedentemente come le staffe per incollare meglio le ali o le staffe per inserire e incastrare i mozzi delle ruote hanno reso tutto molto semplice ci si è serviti di un pennarello e di un calibro a corsoio per rendere la vettura simmetrica rispetto appunto al suo piano di simmetria ed evitare così fastidiose imperfezioni inoltre erano state fatte le divisioni era stata divisa la vettura in punti strategici perché questi fossero le suddivisioni della macchina fossero poco visibili e poi ci si è serviti di un fresino rotante per pulire alcune superfici e facilitare così l'incollaggio bene grazie avevo alcune così curiosità la prima riguarda qualcosa nominato nelle dipositive precedenti e cioè la percentuale di riempimento sì volevo sapere se in tutti i componenti realizzati è stata usata la medesima percentuale di riempimento e quale nello specifico allora la la percentuale di riempimento utilizzata il più spesso è stata del 30 per cento andiamo a cercare lo slide perché questo permetteva di di avere una discreta robustezza del nostro dei nostri componenti senza però allungare esageratamente i tempi di stampa infatti l'obiettivo di questo progetto era anche stampare in tempi utili tutta la vettura di conseguenza il 30 per cento era stato deciso battezzato come riempimento eccolo qua 30 per cento come riempimento adeguato l'unico componente per il quale si è utilizzato un riempimento superiore perché era una parte molto complessa è stata l'ala anteriore invece come tempi di stampa ah benissimo come tempi di stampa se può darci diciamo un'indicazione di un componente qualsiasi quanto tempo ha impiegato allora anche un'idea diciamo che il componente più lungo è stato in assoluto la il corpo vettura ma anche perché ci sono stati dei problemi come appunto prima anticipavo tanti componenti sono stati resi cavi e questo ha ridotto tantissimo i tempi di stampa per esempio dalle ruote si è passati da un tempo di mi pare al attorno alle 18 ore dimezzandolo a nove ore e tre quarti circa infatti questo era possibile grazie che rendendo i pezzi cavi e orientandoli in maniera intelligente sul piano di stampa minimizzando così la necessità di supporti e quindi il materiale di supporto da istrudere appunto accorciando tutti i tempi la il corpo centrale della vettura ci ha messo attorno alle 24 ore considerati anche i problemi le ruote appunto attorno alle 9 ore 10 ore l'ala anteriore pochissimo perché era stata fatta in maniera abbastanza intelligente attorno alle 4 ore e mezza così come l'ala posteriore e invece l'ultima domanda veloce la temperatura di estrusione di 210 gradi è stata modificata durante alcuni per alcuni componenti durante diciamo alcune stampe o no allora la temperatura di estrusione non è mai quasi quasi mai stata modificata è stata fatta una prova per vedere se il materiale fuoriusciva meglio ma diventava troppo duttile e quindi questo peggiorava la qualità della stampa quindi è stata sempre tenuta 210 gradi a prescindere dal materiale sia per il tag che per il pla bene grazie grazie a voi grazie